Dopo lo stop di due anni imposto dall'emergenza Covid, lunedì 4 aprile, tornano al Santuario di San Gabriele i 100 giorni dall'esame di maturità. In realtà la data dei 100 giorni sarebbe caduta lo scorso 14 marzo, ma si è deciso di posticiparla per attendere la cessazione dello stato di emergenza sanitaria. I frati passionisti del Santuario di San Gabriele della Dolorata hanno previsto solo funzioni religiose, dalle 8 alle 17, ad intervalli di circa un'ora, con la tradizionale benedizione delle penne al termine delle sante messe. Finalmente la gioventù potrà tornare qui nel Santuario e li accogliamo con gioia. Già abbiamo avuto occasione di avere qualcuno e la presenza dei giovani, delle classi, di questa giornata così particolare riempie di gioia tutti, quindi sarà certamente un evento importante. I passionisti hanno rivolto anche quest'anno l'appello al prefetto e al questore per uno sforzo particolare affinché il raduno dei giovani si svolga nella massima serenità. La questura di Teramo ha varato un ampio piano di sicurezza per prevenire la circolazione di stupefacenti alcolici. Tutti gli attori metteranno in campo le proprie forze per arrivare a far trascorrere ai ragazzi una giornata di comunione, secondo lo spirito religioso che ha animato dall'inizio l'appuntamento annuale. Come vi state organizzando per accogliere i ragazzi? Innanzitutto la sicurezza. I ragazzi tendono ad esagerare, tutti quanti siamo stati ragazzi e sappiamo che talvolta i limiti non sono così facili da comprendere. Quindi la prima cosa che vorrei dire ai giovani è attenti, non esageriamo soprattutto con l'alcol perché magari è una giornata di festa ma bisogna anche tenere certi limiti. Poi noi di per sé abbiamo fatto in modo da avere una messa ad ogni ora, il santuario sarà aperto, potranno entrare, così che al termine di ogni messa noi passeremo tra i banchi per benedire le penne. Io credo che Gabriele parli da solo perché in qualche modo è presente nel cuore di tutte le generazioni e quindi scoprirlo come protettore, scoprirlo come immagine di vita felice, la sua vita che era piena di gioia perché insieme con Gesù e Maria credo che sia il messaggio più bello. I giovani trovano anche nella fede e nella preghiera quella ragione per vivere e quella ragione per impegnarsi per un mondo migliore.